da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche e sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parche ceramiche d'arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo laura e marco ti aspettano presso lo showroom a rio salso di tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio qualche volta mi piace di pensare alla magia che avevano i viali del monte più mi ci perdo più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così immutati ma sempre differenti pronti a rinnovarsi anzi a crescere proprio come noi cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo hai visto quante novità al conade di montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto sì bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al conade di montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al conade di montecchio buonasera a tutti gli amici di insieme a canestro siamo in diretta dagli studi di rossini tv qualche minuto di ritardo ma ci perdonerete poi vi spiegheremo magari il motivo intanto un saluto ai telespettatori della trasmissione giunta alla quarta stagione la trasmissione fortunata che piace potete seguirci in diretta sul canale 80 di rossini tv visibile in tutta la regione oppure sulla nostra pagina facebook ovunque nel mondo in streaming sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare ed anche sul sito internet di rossini tv e a proposito della nostra emittente manderà in onda lo ricordiamo ve lo vogliamo dire questa sera la diretta dell'accensione dell'albero di natale domenica alle ore 18 e poi alle 19 tutti al palazzo per la partita tra pesaro e treviso grazie ai nostri sponsor conad montecchio macchini ceramiche banca di pesaro che sostengono la trasmissione adesso passo a presentarvi gli ospiti siamo veramente felici e orgogliosi di avere nei nostri studi il primo giocatore americano per quest'anno che viene a trovarci e abbiamo cominciato dal numero uno scott banford guardia della carpegna prosciutto benvenuto ok e dall'altra parte del tavolo abbiamo invece un giornalista un collega del resto del carlino luigi illuminati buonasera ringrazio anche giovanni bruscia ufficio stampa dell'avl che sarà accanto a scott per la traduzione simultanea per aiutarci grazie a voi e adesso passo la parola a giovanni zid anche quest'anno e lui ad indicarvi come mettervi in contatto con noi per porre domande rispondere al contest che lanceremo fra poco che riguarda scott e che mette in palio due biglietti per la partita di domenica 26 novembre contro la nutri bullet treviso a chi risponderà per primo vai giovanni buonasera a tutti buonasera gli ospiti studio come sempre numero whatsapp 370 366 72 10 oppure potete commentare nella diretta facebook di rossini tv partiamo subito con il contest di oggi il contest che vede proprio il nostro ospite qui in studio scott banford scott banford tiene un record a livello di college per quanto riguarda le triple vogliamo sapere quindi quante ne segnò alla weber state university in una sola stagione battendo il record di lilla bene allora chi risponde per primo a questa domanda che non è semplice però su internet sono convinta che molti di voi riusciranno a trovare la soluzione e vincerà due biglietti per la partita con treviso cominciamo allora a parlare con scott e lo ringraziamo perché oggi è il giorno del ringraziamento è una delle giornate più importanti per le famiglie americane e sappiamo che questa sera c'era una cena a casa banford e quindi abbiamo cominciato con qualche minuto di ritardo per dargli il tempo di cenare insieme ai suoi bambini tra l'altro uno dei quali è anche qua in studio e lo salutiamo è la che si guarda il papà in televisione cominciamo a parlare di questa partita contro cremona non è stata una bella serata anzi forse stata la serata peggiore per la vl vediamo le immagini che scorrono sulla partita che è stata persa la sensazione che si poteva fare di più se non per vincere almeno per rendere meno pesante la sconfitta cosa è successo scott perché questa prestazione così di scarica da parte di tutta la squadra I think we just have we have moments in the game where periods where we don't play well and I think in this game they went on a 21-0 run and so we just need to find ways in those moments to find a way to get stops and and to score other than that throughout the game I mean there's periods of teams gonna play good or bad but we just have longer moments where we play bad basketball and I think we've been working to improve that in practice and so hopefully that shows in the next game Beh, dovuto a questa brutta sconfitta è dovuta al fatto che nel corso della partita ci sono stati dei tanti minuti in cui abbiamo giocato veramente male e abbiamo preso dei parziali importanti come anche l'ultimo che ha deciso la vittoria che ha definito la vittoria per Cremona di 21-0 quindi purtroppo abbiamo giocato per tanti minuti male comunque non assolutamente bene ed è un aspetto sul quale stiamo lavorando in questa settimana per cercare ovviamente di migliorare Coinvolgo anche Luigi, il presidente Ario Costa in settimana ha dichiarato difetti ne avremo pure ma non tali da giustificare una cosa del genere Concordi nel puntare il dito prima di tutto sull'atteggiamento oppure vedi anche dei problemi tecnici in questo K.O. Innanzitutto non credo che sia possibile pensare che una squadra intera giochi una partita con un atteggiamento volutamente sbagliato Evidentemente c'è qualcos'altro che non funziona o non ha funzionato nel caso specifico negli equilibri tecnico-tattici della squadra e soprattutto l'aver inserito un americano nuovo in più sotto canestro non ha portato ad un aumento deciso dei rimbalzi quindi siamo rimasti sotto la media dei rimbalzi che una squadra per vincere deve conquistare Ci sono altri problemi di rapporti? Non lo so, però qualche problema ci deve essere Senti Scott, era una partita importante perché tutte e due eravate a sei punti e quindi pensavamo a dello stesso valore due squadre dello stesso valore che si incontrano Quindi questo scarto di 27 punti è veramente esagerato, sei d'accordo almeno su questo? Cioè Cremona non è così superiore a PESA Sì, credo, come ho detto, siamo passati in un buon momento in cui avevano 21-0 I think outside of that, I think we played an average game, you know? I think we just need to figure out the details of how to get stops and how to score in those bad moments where we're not feeling as well But at the same time, yes, you can look at Cremona and say maybe they aren't one of the top teams But I've been in Sassari and we've lost at Cremona by 20 points So it doesn't mean that we're so bad, you know, we just need to play better And so I think that we've been working every day to play better And I think as time goes on we'll continue to work and I hope we will play better Sì, sono d'accordo, non c'è tutto questo scarto, però questo scarto, come detto prima, è dovuto anche al fatto che abbiamo preso dei parziali molto pesanti Dovuti al fatto, poiché non abbiamo sicuramente giocato bene, quindi dobbiamo giocare meglio, sicuramente anche approcciare meglio la partita È vero che tra noi e Cremona non c'è tutta questa differenza, però ad esempio mi è capitato quando giocava a Sassari di perdere a Cremona di 20 Quindi comunque è qualcosa che può succedere, però ovviamente stiamo impegnando per far molto meglio Questi parziali, secondo lui, a cosa sono dovuti? Deconcentrazione? Oppure poco amalgama? Non solo in questa partita, scusami, anche... Yeah, exactly, I think that's been a problem for us all year, we've had 16-0, 21-0, we've had those problems and we're trying to fix it You know, that's something that we know that's a problem and we talk about it and the only thing you can do in life is you have a problem, you try and fix it and you work to fix it And I think the whole group, including the coaches and our players, everyone is putting effort to try and fix those moments And how you fix them is in practice you don't have those moments, so you know, I think that's the only way to do it And that's the same thing I believe in life, when you're bad at something and you're doing bad, wrong or something The same thing I teach my kids, we've got to fix it, you know, and the only way you get to fix it is you work on it every day and you focus on it And so that's what we're doing Ok Sì, sono d'accordo perché non è stato il primo parziale negativo che è capitato in questa stagione Abbiamo degli aspetti su cui dobbiamo migliorare ma come ribadisco anche spesso o comunque tutti i giorni anche i miei bambini e i miei figli Quando c'è un problema bisogna lavorare sodo e mettersi giù quindi per cercare di sistemarlo Perché alla fine della vita bisogna crederci quindi se c'è un problema da risolvere bisogna mettersi giù, impegnarsi per lavorarci e sistemarlo e risolverlo Giovanni se hai già delle domande perché altrimenti noi apriamo un'altra pagina con Scott che però vorremmo trattare tra poco Magari prima ancora qualcuno da casa vuole sapere di questa sconfitta o di altre cose Sì, parlo subito. Com'è la situazione all'interno degli spogliatoi e com'è la situazione tra allenatori e giocatori? Chi lo chiede questo? Andrea da Pesaro e ci arriva la domanda anche da Luca Ok, che naturalmente non è relativa al fatto se gli spogliatoi sono puliti o ordinati Certo, certo Dai una battuta per sdramatizzare un po' la situazione Prego I think it's been great, you know, obviously you know we're not happy about what happened last week Just like we weren't happy about what happened against Kavati But I think all of us have the same mind and we try and work every day and we try and win, you know, that's our goal We're going every day, every day, people are there early, people that stay late To work on things we need to work on individually and as a team So I think the coaching staff has been great working on things we need to work on and the players too We have a good group of guys and so we're just trying to continue to work, like I said, it's just an everyday process of getting better And so I think we're focused on that and hopefully it leads to a better basketball Il rapporto nello spogliatoio è ottimo, sicuramente in questi giorni non è che possiamo essere troppo contenti Visto come è andata la partita di domenica a Cremona, però comunque il rapporto è ottimo Tanto tra noi compagni di squadra quanto con lo staff, con lo staff tecnico Quindi a partire dall'allenatore e con gli altri coach Ci troviamo molto bene, dedichiamo molto impegno e l'allenamento Qualcuno va via magari un attimo prima, qualcuno si ferma più lungo Però tutti noi ci impegniamo al massimo delle nostre forze e delle nostre capacità in palestra Per appunto cercare di migliorare, però il rapporto è veramente buono Allora, voi sapete che quando i giocatori vengono qua, soprattutto se sono nuovi Ci fa piacere farveli conoscere un po' di più come persone, come personaggi Visto che i tifosi di Pesaro comunque amano conoscere i propri giocatori Sapere anche chi sono come persone Quindi volevamo parlare un po' di te e della tua vita, se vuoi Per farti conoscere meglio dai tifosi La tua vita non è stata facile Io ho letto tante cose, ho anche visto un video dove tu racconti, che mi ha colpito molto Dove racconti che hai perso i tuoi genitori, che ha 15 anni quindi eri già rimasto da solo Ecco, chi sono stati i tuoi punti di riferimento? Sappiamo di Damian Lillard, tuo compagno al college A cosa ti sei aggrappato per riuscire a diventare poi un giocatore, un uomo così da solo? Um, obviously I lost my parents when I was younger so I had a lot of people come in my life and help me I have someone that I call my mom and my best friend now and so I've had a lot of people help me through that time but at the same time I've learned that basketball kind of takes me away from the things in life so I've tried to just for me to be basketball you know I like to practice I like to workout I like to do things to come ho detto ho perso i miei genitori quando ero davvero molto giovane, ero praticamente un adolescente, avevo 15 anni e in tanti devo dire però di quelli che avevo intorno mi sono stati vicini, mi hanno aiutato, mi hanno dato del sostegno e una delle cose che mi ha spinto comunque ad andare avanti e che mi regala tutti i giorni ancora gioia e felicità è sicuramente la pallacanestro, anche per questo mi impegno molto in palestra o comunque con i miei compagni di squadra per cercare di migliorare, per far vedere comunque il miglior scott che è in me. Luigi, Banford è il leader riconosciuto di questa squadra, oltre che l'americano più conosciuto dei nostri in Italia avendo già giocato a Sassari, quindi è naturale che le difese siano preparate contro di lui e si accaniscano anche su di lui potrebbe la squadra fare qualcosa di più per aiutarlo ad esprimere il suo grande talento secondo te? Forse giocare meglio alcune partite e liberarlo più al tiro perché lui ha una grande capacità al tiro da distanza, da tre eccetera e ovviamente migliorare anche la pericolosità degli altri, dei suoi compagni cioè gli esterni devono avere una maggiore pericolosità complessiva io non sono in grado di dire cosa bisogna fare perché non sono un tecnico così addentro alle cose però secondo me la squadra bisogna anche di una velocità complessiva migliore, superiore, maggiore Siamo un po' lenti Sì, andiamo un po' troppo piano, giochiamo un po' troppo piano secondo me per essere pericolosi e per sfruttare al meglio Scott Balfe La ribalto a lui, come se te l'avesse fatta Luigi, secondo te giocare in maniera più rapida potrebbe aiutare la squadra e te in particolare? A volte attacchiamo al limite dei 24, invece forse correndo potremmo essere più pericolosi Sì, io penso che abbiamoillä e il coachesե�lare essere più adattanti ma per ottenere il centres dove banali tra punibili er Nee è molto più difficile Ecco a macerare ir zab бор marine in maniera una volta solo, stesso anno Anche in ultima settimana abbiamo fatto un miglior lavoro di questo, ma non lo mostro nel gioco. Credo che abbiamo lavorato su questo, perché credo che il più veloce che giochiamo, il modo che sappiamo come giochere, apriva il gioco per tutti gli altri. Credo che è uno dei miei job, come uno dei leader del team, di poter giochere in questo modo e di giochere in modo che bisogna giochere per essere successi. E comunque giocare a ritmi più elevati, anche per essere più pericolosi. Anche perché comunque dobbiamo considerare il fatto che correre e quindi giocare ad alti ritmi a alta velocità può comportare anche un'apertura del campo, quindi possiamo sicuramente avere più frecce al nostro arco. E su questo però anche io nel mio ruolo di leader della squadra devo assolutamente cercare di far meglio. E invece prendere rimbalzi anche per correre. È un problema? Sì, sì, è un problema. Credo che è qualcosa che, come ho detto, stiamo lavorando. Quindi sappiamo quali sono i nostri problemi, sappiamo quali sono le nostre forti e le nostre forti. E abbiamo lavorato sulle nostre forti. Quindi spero che in questo prossimo gioco possiamo migliorare in queste zone. Sì, sono d'accordo. Come ho detto, conosciamo i nostri punti di forza e i nostri punti di debolezza. Questa è una delle nostre debolezze su cui dobbiamo assolutamente e su cui stiamo lavorando per cercare di far meglio già nella prossima partita. L'arrivo di Mokevicius può aiutarci in questo? Come lo vedi? Ti piace come giocatore? Come lo vedi, come lo vedi? Come lo vedi, come lo vedi? Come lo vedi in france, abbiamo un buon connection e è molto prognosti. Come lo vedi, playing defense, sette screens. E' un buon che siamo noi per la nostra parte. Come lo vedi, ha funzionato, ha parlato la più, quindi è aiutato. Come lo vedi, come lo vedi, è stato comodo. Come lo vedi, è comodo, quindi è un buon place per lì, e ci sarà molto aiutare. Credo che nelle prossime settimane dovremo poter vedere questo. Ricordo che hanno giocato insieme, quindi sono stati compagni, no? In Francia, per cui... I compagni di squadra in Francia ha detto che sicuramente la giunta di Egidius è molto importante, non solo a livello di conquista, comunque di cattore dei rimbalzi, ma proprio anche in termini di carisma e quindi è importante anche sotto questo aspetto e sicuramente col passare delle settimane ci sarà un superiore contributo da parte sua. A proposito di Mocchevicio ci chiede, salutiamo il signor Fattori, che saluta Luigi Illuminati e Giovanni Bruscia e sicuramente anche a Scott Dunford, e perché in alcune partite non fanno giocare insieme Totè e Mocchevicio? Se lui può dire qualcosa oppure ne può commentare anche Luigi. Matteo Fattori, penso che si tratti del nostro collega che è stato qua ospite. Questo è difficile, sono due cinque uomini, quindi è molto difficile da giocare in questo modo. Penso che se possiamo raggiungere Leo, più come i due, se si può giocare in questo modo, ma penso che è difficile, penso che sono due cinque uomini, quindi non sono sicuro se li vedremo sempre sul collega all'interno. È tosta, comunque sono due giocatori molto validi, hanno delle loro caratteristiche specifiche, però ritengo che possono giocare insieme, quindi dovremo valutarlo nel corso delle settimane, però comunque stiamo parlando di giocatori veramente validi. Sì, lui dice che Leo potrebbe giocare da quattro, però in realtà in questo momento sono tutti due dei cinque, quindi metterli insieme è incastrare una costruzione. In qualche modo lo staff siamo sicuri che ci proverà, perché potrebbe essere una bella soluzione. Giovanni hai ancora? Sì, Scott ci chiede Andrea, ti piacerebbe giocare alle finalette e quindi qualificarvi? A tutti piacerebbe. Of course, that's what we play for, that's what I wake up every day and work for. I get up early, I go to practice early, I stay late because I want to make sure I do my part and do what I have to do to be the best I can be, to help our team because that's the goal and that's what drives me every day is the win. So I want to win, I want to play in the final eight, I want to be the best team that we can be. Does that mean we're going to be the best team in Italy or anything? I don't know, but I know that I work every day to be a better player and to be a better leader for the team and to help my teammates to be the best that we can be and win as many games as we can. So yes, that's my goal. Well, it's the motivation that I'm going to do is to go to the palestra presto and to go to the palestra tardy. It's the goal that we have at the moment because it's an goal technically and matematicamente and this is a great motivation for me to make sure that I can always do the best to make sure that I can be a good player, a leader. Quindi sicuramente questa è una bella carica emotiva, una bella spinta. Vediamo adesso, a proposito sempre della famiglia di Bamford, un video dei figli perché sono bravissimi con la telecamera a raccontare le cose e ci è piaciuto e ci ha colpito questa immagine di te che alleni uno dei tuoi bambini con i guantoni. Sappiamo che la boxe è una delle tue passioni. Come mai? Cosa ti piace di questo sport? You know, I started boxing a lot of years back just because it was something I liked to do and kind of, I don't know, it's not anger to get your anger out or get your feelings out. So I started boxing a while back and so now my sons, I have them box, you know, I think it's good for them. You know, it's good for your hand-eye coordination, it's good for your mind, it's good to do things like that other than just play basketball or just play soccer, you know. So I like to try new things with them, you know, all the time and we have fun with it, you know. They like making videos, you know, young kids now are into making YouTube videos and stuff. so I try to do things like that with them to help them just be happy, you know, and so that's my goal. Sì, e sono tanti anni che mi piace praticare la boxe e anche insegnare ai miei bambini. Non si tratta ovviamente di qualcosa di pericoloso o comunque per scaricare la rabbia, ma mi piace molto anche l'aspetto del fatto di essere comunque coordinati, quindi anche stare sempre molto concentrati, veramente uno sport affascinante che mi piace praticare tutti i giorni e quindi sicuramente andrò avanti così per tanto tempo. E invece alcuni dei suoi bambini, due credo, giocano anche a calcio, quindi penso che abbiamo anche un video di loro che fanno allenamento nel campetto di Villa San Martino. Questo è anche bello per dire di come i suoi figli si stanno inserendo in città, fa molto piacere questo, insomma. Sì, Jackston, è qui con noi. Lo piace il soccer. Come anni fa? Sì, è 9 anni. Sì, è la persona che piace il soccer più e quindi mi chiede, quindi mi chiede, posso lavorare, posso fare il soccer? Quindi ho cercato di aiutare. Non ho mai spesso in soccer quando ero piccolo, ma ho cercato di trovare cose similiare nuove cose, similiare al basso con i piedi, come dribbling e cose. Sì, piace andare a lavorare e migliorare e migliorare al soccer. Per me, per quanto riguarda i miei figli ogni giorno cercano di essere migliori a qualcosa, potrebbe essere il soccer, il basket, potrebbe essere il tutto. Io solo voglio che hanno ambizione e il ruolo di lavorare ogni giorno e cercare qualcosa che vogliono fare nella loro vita e essere successi. Quindi ho cercato di aiutare di aiutare come posso. Sì, gli piace molto giocare a calcio, mentre invece da piccolo non avevo mai giocato a calcio, non giocavo mai a calcio. Quindi è affascinante anche questo, ma la cosa principale è comunque che facciano quello che appunto gli piace fare. E comunque è molto bello vedere come il fatto che crescono e fanno quello appunto che gli piace fare, ma comunque l'obiettivo è sempre quello di dare sempre meglio di se stessi, quindi cercare di migliorare ogni giorno. Però il maggiore gioca a basket, Kingston, gioca a basket? Kingston piace il basket, sì. Ok. È importante. Sì, è stato con me da quando ho avuto in scuola. Mi ricordo quando ero un anno, o prima che ero uno, ho portato a pratica nel stroller. e quindi è stato con me da 11 anni, giocando il basket, quindi mi piace il basket molto. Quindi penso che Jack, mio mio figlio, piace il basket anche, ma piace tanto il soccer e il basket, ma Kingston è più sul basket. Il maggiore, quindi tu. Speriamo di avere un erede. Il maggiore piace molto di più il basket, che praticamente è il suo sport preferito da quando è nato. Sì. Un'ultima cosa, e poi chiudiamo questo argomento, a proposito dei bambini, ho letto che hai aperto un'associazione che si chiama Real Hoops, per dare un'opportunità ai ragazzi, opportunità che tu non hai avuto quando eri piccolo. Ce ne vuoi parlare un attimo? Se vuoi parlare di Real Hoops. Oh, Real Hoops, sì. Oh, ok, non ho capito, che ti ho parlato, sì. Io ho creato il basketbolla un'organizzazione un'attivazione a while back per aiutare i bambini, per aiutare i bambini per aiutare i bambini. E quindi, un'attività di aiutare i bambini e come in effetto da i bambini che ho fatto un'attività perché è un'attività difficile. Me e il mio amore e i miei amici si è un'attività e noi facciamo i bambini e lavoriamo con i bambini con i bambini per aiutare i bambini per aiutare i bambini e per aiutare i bambini essere parte di questo e cresciamo come gruppo. Abbiamo creato un'organizzazione di basketball che si chiama ABC, in un'organizzazione dove aiutiamo i bambini a giocare di basketball, campi di basketball, le lecce, quindi è stato buono. Aggiungo una domanda che ci arriva, ci chiede Claudio come si trova lui e la sua famiglia a Pesero, visto che Lorenzo dice che hai notato che Pesero è una città di basket, questo palazzetto veramente presente, speriamo sempre di più come ti trovi e come per te. Quando vedo i bambini in una città, dicono ciao e cose così, quindi è stato buono, sono molto felice qui, i miei figli sono felici qui, tutti sono felici qui, quindi è stato un buon momento qui. Mi trovo molto bene perché comunque la gente a Pesero è molto accogliente e calorosa e non mancano mai di salutarti magari quando ti vedono a lungomare o comunque a passeggio in centro e qualcuno si ferma anche a parlare di basket, quindi questo lo apprezzo molto e devo dire che comunque è una città veramente piacevole e mi trovo molto bene, io e la mia famiglia. Poi è una città piccola, lui può andare col monopattino, lo vedono tutti col monopattino. Ma lui va all'allenamento col monopattino? Sì, ogni giorno, sì, è divertente per me, mi piace mettere la musica, è il mio tempo di 15 minuti dove mi ritrovo dalla mia figlia, chiedendo, chiedendo e riuscire in pratica, quindi sono i miei 15 minuti al giorno dove mi ritrovo solo per pensare, essere calmo, pensare alla mia vita, è divertente, mi piace riuscire in un scooter, quindi è buono. Sì, ho il mio quarto d'ora d'aria quotidiano tutti i giorni in cui sono tenente libero dai miei figli e ne approfitto per andare col monopattino all'allenamento, devo dire che è molto rilassante. Sfiderà anche il freddo? Che adesso arriva il freddo. Posso me ricordare dove? Sì, sì, anche col freddo. You put on gloves and a beanie? Va bene, metti il cappellino. Adesso un guanti cappellino e vai. Senti Luigi, visto che prima abbiamo aperto il capitolo dedicato ai bambini e quindi in generale ai giovani, ti facciamo parlare un attimo del settore giovanile che è la tua grande passione. Tutti sanno che oltre ad essere un giornalista sei anche il papà di Giovanni Illuminati che è stato per molti anni responsabile del settore giovanile, che ancora adesso allena l'Under-19 e adesso quest'anno è entrato nello staff della prima squadra. Quindi volevo dirti questo vivaio che ha regalato tante soddisfazioni al club finora, se vuoi dire un po' la tua su questo. Ma io... E non da quando c'è Giovanni, insomma da sempre. Certo, il settore giovanile e la passione della città per il basket è evidente dai tempi di Riminucci e Bertini, c'è dagli ultimi due campionati Juniores che hanno visto vincere il titolo nel 54 e nel 56 a Riminucci e Bertini. E quindi da lì partiamo e mio figlio è riuscito nell'impresa di trasformare il suo hobby in lavoro. E questa è la cosa migliore che ha... Che non ci credevi. No, io non è che non ci credevo, a parte che anche io ho trasformato la mia passione in lavoro e quindi devo dire che in questo siamo tutti e due molto fortunati. Lui è riuscito a fare del basket che non era riuscito a giocare, fare l'allenatore di basket e ha fatto dieci finali nazionali, quindi non è poco. L'anno scorso ha fatto la finale nazionale e quest'anno punterà a farne un'altra perché anche se quest'anno c'è un girone molto forte dove la VL gioca con Virtus, Fortitudo, Forlì, Lanciano e Ancona e Sant'Arcangelo. Il girone di ferro. Il girone di ferro sono cinque a pari in testa al campionato e dove hanno perso una partita che era un anno che non perdevano. L'anno scorso non hanno mai perso, quindi a parte la finale nazionale che sono arrivati qua. Quindi lui penso che abbia voluto quest'anno fare il salto nella prima squadra e quest'anno punterà con Maretto e Stazionelli a fare quello che ha fatto l'anno scorso, cioè arrivare alle finali nazionali. Senti c'è tanta gente a vedere le partite, vogliamo anche invitare, ricordiamo dove giocano, a che ora? Giocano alla palestra della Baia, lunedì sera alle 20.45, lunedì prossimo c'è la sfida con la Virtus. E bisogna venire. Non si può mancare. Non si può mancare. Giovanni, se vuoi. Sì, la tifoseria possiamo dire è un po' delusa, come pensate di rialzare la testa e vincere domenica? Anche loro, pensiamo che siano delusi, non è facile. Sì, spesso si trattano un team che non ha avuto un gioco, quindi si trattano i giocatori di vincere un gioco. Ci sono stati un spazio ultimo gioco e sono quasi vincere. I sai che sono stati un po' di nuovi giocatori, quindi sono stati un nuovo team per piccolo. Per noi, abbiamo già avuto una buona settimana per la pratica. Penso che abbiamo fatto davvero concentrati. Abbiamo fatto una cosa che abbiamo fatto, come abbiamo parlato, abbiamo fatto davvero attraverso, e tutti si concentrano su questo, quindi credo che giocherebbe davvero un buon gioco. E' difficile, ovviamente, e spero che i fan vengono in supporto, ma spero che questo gioco avrò un'improvviso e avrò le cose che abbiamo lavorato. E' difficile regalare questa bella soddisfazione ai tifosi, che sono tantissimi qui a Pesaro, però sicuramente sarà molto importante giocare di squadra. Ecco, allora andiamo a vedere... vuoi fare un'altra domanda, Giovanni? Scott, ritieni che la squadra abbia bisogno di innesti nuovi? Non è forse la persona più indicata, però... No, credo che i giocatori che abbiamo, e parte del mio lavoro è di aiutare a giocare meglio. Io ho bisogno di mettere in posizione a giocare meglio. Abbiamo alcuni buoni giocatori, abbiamo alcuni giocatori che non hanno giocato bene, ma io penso che è un mio lavoro, uno dei leader, uno dei principali giocatori, è di aiutare, 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 aiutare in posizione a giocare. E quindi, è quello che ho davvero lavorato e lavorato quando guardo il film, ovvero ogni giorno, ogni giorno, di come posso aiutare, 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 e questo è proprio quello che penso. Quindi, è facile dire che questo giocatore non gioca bene, quindi proviamo un nuovo giocatore. Ma, per me, quando ho avuto in squadre, quando hai avuto un nuovo giocatore, e per me, quando hai riduto di qualcuno, e per me, per me, mi scelta, perché mi sento che ho scoperto, o che non ho fatto il mio lavoro per aiutare quella persona. Quindi, il mio lavoro è di aiutare quella persona, aiutare questa persona, aiutare loro a giocare meglio e aiutare noi a vincere. Quindi, io prendo quello a me stesso, quindi... Sì, sinceramente non ritengo che la squadra abbia bisogno di nuovi giocatori, ma, anzi, dobbiamo fare in modo che a vicenda tutti quanti noi riusciamo ad aiutare i nostri compagni di squadra, quindi sicuramente non abbiamo bisogno di altri giocatori. e, purtroppo, so che spesso le persone tendono a dire un giocatore non gioca bene e lo cambiamo. Però questo non è innanzitutto possibile sempre e, in secondo luogo, non è neanche utile spesso, anche perché poi c'è da considerare anche la parte umana, perché comunque, per quanto mi riguarda, quando sento queste cose, comunque quando vedo che c'è un cambio nel roster mi metto anche comunque nei panni dei giocatori che viene sostituito e questo sicuramente, sinceramente, mi addolora anche un po'. Quindi, sicuramente, l'obiettivo è non cambiare giocatori, ma cercare di aiutare quelli che già sono in squadra. Infatti, un generoso da parte sua dice che tutti i giorni lui guarda i video dei suoi compagni per cercare di capire come poterli aiutare. Questo è parte di essere un leader, no? Questo è essere un leader. Sì, esattamente. Penso che questo è parte del mio lavoro, aiutare tutti a giocare meglio e aiutare a venire. Quindi, non posso preoccupare di nessuno altro e fare il mio lavoro, ma il mio lavoro, come uno dei leader, è aiutare ogni giocatore. e credo che abbiamo alcuni buoni giocatori sul nostro team. Ci dobbiamo mettere in posizione per essere successi. E questo è quello che faccio. Sì, guardo un video a casa con i miei figli, guardo il basket sempre e sempre, guardo il nostro gioco. e il mio figlio mi troverà perché io guardo il nostro gioco 20 volte. Ma è proprio quello che faccio. Certo, cerco di trovare un modo per aiutare le persone e soprattutto aiutare il mio team. Il mio figlio è disperato. Dice che guarda 20 ore al giorno, la palacanestra, la moglie sarà disperata. Lui e i suoi bambini. Si, ha detto che guarda spesso e riguarda spesso le partite, anche perché comunque cerca di capire come aiutare i compagni di squadra. però sì. Prego. Mi veniva da chiedere, oltre ad essere un finalizzatore, un tiratore, puoi diventare anche un creatore di gioco? Un playmaker. Un playmaker aggiunto. Sì, credo che durante il tempo, back in college, ero più solo un shooter, giocando con Damian Lillard. Ma ora, giocando in Europa, ho lavorato a essere più un playmaker, e poter passare, e tirare, e fare molte cose. E quindi, in ogni gioco, cerco di capire cosa posso fare meglio in quel gioco, come le squadre mi guardano. Se non mi lasciano tirare, devo cercare di fare qualcosa di altro. Quindi, credo che questo è qualcosa che ho lavorato ogni giorno, per anni e anni, e quindi, ho fatto molto bene. Sì, al college ero prettamente tiratore, ai tempi in cui giochiamo anche con Damian Lillard. Mentre poi, venendo in Europa, e col passare degli anni, ho iniziato comunque a creare un po' il gioco, quindi, mi sono spostato un po' anche sulla sponda del playmaker, e lavorandoci per anni, comunque ho acquisito un po' questa capacità, questa esperienza, quindi sicuramente sì, la risposta è affermativa. Allora Andrea, ti prego di mettere la classifica della Serie A. Volevamo un attimo guardare la nostra posizione. oggi la VL è dodicesima, avrebbe potuto essere ottava, dove adesso è Cremona. Quindi, quello che voglio, Cremona che diciamo in questo momento è dentro il play-off, ma ancora c'è veramente tanto da giocare. Però, pensi Scott che sia un traguardo possibile, oppure è meglio stare con i piedi per terra e pensare alla salvezza? Per me, sì. Se non pensi che sia possibile, non volevo giocare. Questo è quello che credo in ogni giorno, che credo, 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 sixteen è uno vero da stare la torta, credo, 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 Un'altra squadra a casa, dove stavano 4 punti e stavano la balla per me. Quindi in questi giochi, potrebbero essere due più vinci. We lost over time. Exacto, we lost over time against Scavati, ma ho avuto la balla in my hand e stavano la con 40 secondi. Quindi, siamo proprio là, siamo molto, molto vicini. E poi abbiamo un buon gioco, come la settimana, quindi tutti pensano che tutto è buono. Abbiamo solo bisogno di prendere uno gioco a un po' di tempo, e credo che se stiamo migliorando così, e poi torneremo un migliore team e, spero, in fine, facciamo i play-off. poi persa a supplementare in casa contro Scavati, in cui l'hanno rubato, praticamente la parla dalle mani, in relazione un po' concitata, però questo sta a significare che comunque noi ce le giochiamo quasi tutte fino alla fine, quindi ovviamente dobbiamo e possiamo pensare a tutti i vari obiettivi della nostra portata. Luigi, la squadra che ti ha sorpreso di più dopo otto giornate, e quale invece, secondo te, è la sorpresa in negativo? In negativo direi Milano. Non so dove è in classifica. Milano a dieci punti qualcosa ha recuperato. Ha recuperato, però insomma Milano non è che sia andata bene fino a questo momento. Non ti convince? Beh, insomma, con quello che costa. Mentre direi Napoli positivamente, e per me non è una sorpresa che in testa della classifica ci sia la Bologna di Banchi, perché conferma la mia tesi che Banchi è un allenatore di un determinato livello e quindi è riuscito ad andare, ad allenare a Bologna e ad ottenere subito da Bologna la risposta più positiva che poteva. È quasi incredibile il suo impatto è stato, no? Se ci pensiamo, è arrivato a una settimana dal via al campionato. Certo, però per me non è incredibile. Con una squadra non fatta da lui. Non è incredibile. Conoscendo, l'abbiamo avuto qua, quindi conoscendo l'allenatore non è incredibile, insomma, anche i suoi risultati precedenti. Ma gli ultimi sicuramente rendono credibile tutto quello che ha fatto. Anche in Eurolega, penso che la Virtus. Sta vincendo in questo momento di 15. Ecco, aggiornaci. Sì, vince di 15 la Virtus contro Fenerbahce. Ecco. Allora, Giovanni, se hai qualche altra domanda. Sì, ho tre domande. Domanda per Luigi. Secondo te perché non vengono messi in campo Stazionelli e Marepo? Chi lo chiede? Ce lo chiede Giorgio Gennari su Facebook. Ok. Ciao Giorgio. Ci fa piacere quando abbiamo degli amici che ne seguono. Questo bisognerebbe chiederlo all'allenatore. Perché non lo mette? Perché evidentemente ritiene che ancora è troppo presto puntare su di loro. In realtà Stazionelli sono diversi anni che con il settore giovanile della VL ed è la cosa più sorprendente che è arrivato a due metri di altezza e nell'ultimo anno è cresciuto a otto centimetri. L'altra cosa è Maretto che... Poi sei un po' più scaffato Maretto. No, Maretto più scaffato ma Maretto è una scoperta di Giovanni. L'ha portato Giovanni qui a Pesaro da Iesi. L'ha portato alle finali nazionali dove Maretto e Stazionelli tutti e due sono entrati nel Startify. Cioè nel quintetto migliore quintetto. E Maretto è andato in nazionale under 20 anche su indicazione di Giovanni. Quindi questo è un dato vero. Quindi prendendo lo status italiano, no? Certo. E gioca da italiano. Questa è una roba molto positiva per Maretto e per la società. Certo. Quindi vedremo se magari la squadra gioca meglio, i giovani avranno la possibilità di giocarlo. lo chiediamo anche a Scotto, no? Se magari fate delle partite un po' più tranquille, senza batti cuore, magari forse i ragazzi possono entrare. Sì, sì. Speriamo che sia così. Speriamo di poter dar loro alcuni minuti importanti. Ok. Altra domanda? Sì, intanto ci scusiamo per prima. Ci ha chiamato il signor Fattori, se non è Matteo Fattori. Ah, ok. Allora, va bene. Ok. Ci scrive Claudia Portolani, un saluto a tutti voi. Scott, volevo chiedere se dopo Sasseri e le tue esperienze europee, tornando qui in Italia, hai ritrovato il campionato uguale oppure molto più competitivo? Sì, è simile. Sì, è vero. perché ogni gioco è un gioco difficile, sai? e quindi, da ora, è stato 5 anni fa, quindi 5 anni fa, credo che è più migliorato. Allora, è simile, ma penso che sia migliorato come livello e anche come giocatori, come squadre. Quindi sicuramente è un campionato molto interessante e competitivo e penso che possa portare anche dei giocatori da altri campionati. Quindi sicuramente non è stata una grossa sorpresa per me, però devo dire che ho notato un innalzamento della qualità. Sì, infatti ti ha detto anche ecco perché Milano fa fatica, perché il livello si è alzato e quindi anche le squadre forti trovano posizione, no? Quindi è importante. L'ultima domanda. Hai pure, Giovanni? Ci chiedono in parecchi come ti trovi con McCallum e cosa pensi di lui come giocatore? Ecco, 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 ecco. I think he's one of the players that I was referring to We have a really good player And who hasn't been able to show he's a really good player And I think that me and him have talked back and forth About how I can help him And what he needs me to do to help him Because he has been a very good player in his career I think that this year he's obviously struggled a little bit Trying to find where he fits on our team and what he can do And so I take that upon myself And how can I help him So we've tried some different things in practice with me and him And how I can help him and give him some space to do what he does best And so for me and him that's one of my closest people on the team That I talk to daily So I have a great relationship with him And I hope to help him Help him show what kind of player he is Because he's a really good player He's one of the guys I've been tied to the most In the team In squadra Ci parlo E comunque trascorro tanto tempo con lui tutti i giorni E credo che sia un ottimo giocatore Come dimostra comunque anche il suo curriculum Non per niente ha giocato anche in NBA Magari in questo periodo In questa inizia di stagione qui in Italia Sta un po' facendo fatica A far vedere quali sono le sue capacità Le sue qualità Anche in termini di incastro In quello che serve E quello che non serve alla squadra Però sicuramente stiamo parlando di un giocatore Che sa cos'è la pallacanestro Come si gioca E quindi sicuramente presto lo vedremo Sui suoi livelli Non è il primo giocatore che dice questo Perché anche Totè Quando è stato ospite nei nostri studi Ha detto di avere un'ottima relazione con Ray Quindi la sensazione che rimbalza al di fuori Che il ragazzo sarebbe isolato Forse non è La nostra percezione magari non è quella giusta Crediamo che all'interno della squadra Lui sia ben voluto Che stia attraversando delle difficoltà Ed è bello da parte dei compagni Che cerchino di aiutarlo Perché anche Leonardo ha detto Che in allenamento fa delle cose Che poi in partita non è riuscito a fare Ecco non so se lui può confermarlo E saremo molto felici di vederle anche in partita Insomma queste cose che riesce a fare in allenamento Perché talento comunque ne ha Anche inizia Yeah, exactly I think Ray's been practicing well He's been focused in playing well in practice And I think he just needs one game To kind of make himself feel good But in the locker room He's fine And I've always done that I don't ever let someone be alone And I know how it is If you play bad Or everyone's against you You kind of feel alone So I make sure that he's okay You know, I talk to him daily Make sure he's okay Make sure his family's okay Make sure he's okay And to be that person he can talk to you You know, and so Especially in America Where he's here by himself And he's away from his family You know, I try to take that as the person And try and help him You know, so He's not alone You know, we all got his back And I'm sure he's gonna He's gonna have one of these games Where he plays really well And helps us win Molto bello quello che ha detto Sì, ha detto praticamente che Nello spogliatoio ha ribadito Che si trovano tutti molto bene Anche Correio ovviamente E ogni giorno Comunque tutti i compagni Cercano di fargli capire Magari come può rendere al meglio Come può appunto agevolare Il lavoro della squadra Però sicuramente Anche questo significa essere una squadra Quindi è importante Dare una mano a chi ne ha bisogno Come in questo caso Un compagno di squadra Che le qualità le ha Che magari adesso sta un po' facendo fatica A farle vedere Sì, dice di solito Quando i giocatori giocano male Vengono lasciati da soli Ma non è quello che sta succedendo a Ray Quindi è molto importante Questo da parte della squadra Bene, adesso ci dobbiamo occupare Perché sono già le 22.13 E quindi degli highlight Di Treviso Napoli Andrea se puoi metterli in onda Andiamo ad occuparci Della nostra prossima avversaria Treviso che non ha ancora vinto Una partita In settimana ha inserito Due nuovi giocatori Justin Robinson Che ben conosciamo A Pesaro Che è stato il playmaker Della Carpegna Prosciutto Nella prima stagione Di Repesa E poi Oli Zevicius Alla Lituana Che abbiamo visto a Reggio Emilia Insomma Due acquisti importanti Quindi Una partita Pericolosa E' una partita Non ci sono Non ci sono Sì E' sicuramente Una squadra competitiva Ha fatto un po' di fatica All'inizio Però Nell'ultima partita L'abbiamo vista Molto meglio Giocarsi alla fine Alla fine anche la sconfitta proprio di misura e sul finale in casa contro Napoli. Sarà una partita tosta e sono entrati nel roster due giocatori che conoscono bene questo gioco, questo campionato come Robinson e Lesvicius. Quindi ci aspetta una gara tosta, ma noi ovviamente abbiamo come obiettivo soltanto la vittoria. Certo. Luigi, visti i problemi che ci portiamo un po' dietro in regia, il ritorno di un ex come Justin Robinson è un po' insidioso, quindi evitare che faccia un esordio col botto proprio sul campo che fu suo è un imperativo per la difesa della VL, sei d'accordo? Direi che è l'avversario che non ci voleva in questo momento, almeno sulla carta. Speriamo che la reazione che il presidente Costa si aspettava domenica scorsa avvenga questa domenica. Cioè arrivano due avversari in più, nuovi, e poi soprattutto dobbiamo rispondere alla battuta di Gioffre, del direttore sportivo di Treviso, che ha detto che il loro campionato cominciava alla nonna giornata, quindi come per dire avremo un avversario che batteremo alla nonna giornata. Bisognerebbe fargli... Dan Peterson avrebbe appeso un cartello nello spogliatoio con questa frase, no? Facciamo vedere a Gioffre che siamo la squadra che non è la squadra con cui possono cominciare i campionati. Va bene, speriamo. Allora, facciamo riposare adesso un attimo soprattutto Giovanni, che ci sta dando una gran mano. Se vuoi dire a Scott che noi abbiamo tutte le puntate un album dei ricordi in cui, vista la lunga storia della società, abbiamo deciso in tutte le puntate di dedicare qualche minuto a uno dei giocatori che ha vestito la maglia biancorossa. E stasera credo che faremo un grosso regalo a molti di voi raccontandovi di Joe Pace. Ringraziamo Claudio Iacchini ancora una volta per il suo canale WL Pesaro History. Queste sono immagini veramente incredibili di Joe. Guardate che elevazione che aveva. Joe Pace nasce il 18 dicembre 1953 a New Brunswick, nel New Jersey. Giocatore di una fisicità esuberante. Viene scelto al draft NBA dai Washington Bullets, con i quali vince il titolo nel 1978. E pensate che in squadra con lui c'era anche Greg Ballard, che vinse poi il primo scudetto con la Scavolini. Il suo carattere difficile però gli procurò tanti problemi. Dopo due stagioni a Washington, firma con i Boston Celtics, con i quali però non giocherà mai. Così al termine di quell'estate si trasferisce a Pesaro, dove nella stagione 79-80 fa letteralmente impazzire i tifosi per le sue schiacciate poderose, le sue stoppate ad altezze siderali, ma anche per i suoi eccessi, l'ultimo dei quali lo porta a rischiare la vita per un overdose e ad affrontare i successivi problemi giudiziari. Nonostante una stagione da 21,7 punti di media in maglia bianco-rossa, la sua carriera ad alto livello è distrutta. Giocherà poi in Inghilterra, Messico, Venezuela e Argentina, dove subisce un serio infortunio alla schiena che lo costringe al ritiro. Gli ultimi anni di Gio sono stati veramente difficili, passando da abusi di alcol e droghe e centri di riabilitazione. Ha vissuto per un lungo periodo a Siattoli, in un ricovero per senza tetto, e poi grazie a Elio Giuliani, ex addetto stampa della VL, in città è stata lanciata una raccolta fondi per lui, e da allora sono ripresi i contatti con il pivot, mai dimenticato, oggi settantenne. Esiste per chi vuole anche una pagina Facebook a lui dedicata, dove spesso Gio risponde ai tifosi pesaresi. Lo salutiamo, se per caso sta guardando insieme a Canestro, perché sappiamo che spesso lui va a cercare notizie su Pesaro, che non ha mai dimenticato, come Pesaro non ha dimenticato lui. Quindi siamo molto contenti di avervi raccontato questa storia. Bene, Giovanni, sei altre domande? Scrivono direttamente da Malta, traduco molto velocemente, ciao Scott, Pesaro vive di basket, sicuramente se darete tutto a voi stessi, i tifosi potranno realizzare il proprio sogno. Spinge e continua con i tuoi compagni di squadra a fare del loro meglio, e con tutte quelle persone che comunque sono vicino a te, e ti renderanno la tua stagione veramente indimenticabile qui a Pesaro. Saluti da Malta. E Mamo per caso, da Malta? Sì, Mamo Carlitos. Lo salutiamo caramente. Ok, abbiamo tifosi, we have fans, also from Malta. From Malta. Ok. Bene, andiamo con... Vogliamo risolvere il contest? Sì, allora ricordo un attimo la conferenza stampa domani alle ore 15 in diretta sui social della Vittoria e di Berta Spesaro, la biglietteria che aprirà alle ore 17 alla Vitri Frigo Arena, e il contest che Scott Bamford detiene il record di triple segnati in una stagione con il Wildcast che sono 103. Il vincitore dei due biglietti è Mauro. Bravo Mauro, non era facile. Molti ci hanno risposto 259, ma i 259 sono quelli totali di tutto il suo college. Esatto, no, 103 sono le triple che lui ha segnato in una sola stagione. Sì, in quella stagione. E tra l'altro questo record lui l'ha tolto a Lillard, quindi che cosa dice il tuo amico Damien di questa cosa? L'ha presa male? Sì, questo è probabilmente l'unica cosa che ho giocato a Lillard. Siamo lavorati nel giro, quindi facciamo le competizioni di scopo e cose, e lui è probabilmente la persona che non può mai giocare, o che non può mai giocare una volta e non può mai giocare. Mi ricordo quando ho passato a Lillard sul record a Weber State, ho fatto sicuro che gli ho letto sapere che ho finalmente giocato a Lillard. Un attimo, traduciamo? Ci scherziamo su quando ci vediamo d'estate, che magari facciamo qualche campo, qualche workout, però praticamente ha detto che è molto difficile essere Damien Lillard, Damien Lillard è la persona che io non potrò mai essere, o che magari potrò essere soltanto una volta nella vita, come in questo caso, in cui ha battuto il suo record. L'ha battuto una volta e lì rimane questo record. Venisci. Io vorrei chiedergli se ha vissuto come una delusione e la mancanza di approdare all'NBA. Ah, ok. For you it was something disappointing and not to play in the NBA? No, for me it wasn't disappointing. I think that coming out of college, I worked out some NBA teams, but for me I just, my best friend played in Europe, he played in Germany for a lot of years, and so obviously I wasn't given the chance to play in the NBA, so I knew I can come play in Europe. And so for me it wasn't disappointing, for my life I don't look at things as disappointment, I'm definitely blessed to be here and be able to play 11 years now in Europe, so I'm happy with my life. I accepted my life and every year has been a blessing in a new city or being able to play in places like Pesero has been amazing, so I'm not disappointed at all. I have a lot of friends in the NBA and for me Europe has been where I'm supposed to be, so I'm happy. Si sta meglio qui, forse è vero. Ha detto che non è stata una delusione per lui, anche perché poi uno dei suoi più cari amici ha giocato e comunque al tempo giocava già da diversi anni in Europa, in Germania, quindi sicuramente anche poter venire in Europa a giocare per lui è stato molto interessante, molto bello, però non l'ha vissuta come una delusione, anche perché cerca di vivere al meglio tutti gli aspetti della vita quotidiana e quindi molto contento di essere in Europa, in Italia. Ha visto molti posti, vedendo in Europa. Do you think lots of places in Europa? Yes, yes, yes. I've tried to, especially take my kids places, you know, I give them, and for me playing in Europe has been amazing, you know, I've been able to take them a lot of places in the world that I never thought I would ever go to, so it's been amazing for not only me, but for them as well to be able to experience all those new things. E' il fatto di portare sempre la famiglia con lui e un altro dato in ogni posto dove è andato ha portato la famiglia. Yes, it's really important, yes. I make sure that, you know, they're taking care of first, you know, and then I look for myself after that, but for me it's about them and the kids and just trying to give them the experiences in life that I never had. Esperienze per i bambini che lui non ha mai avuto da piccolo e ha anche la possibilità per loro di conoscere altre culture, ma per lui stesso. Non so, ti è piaciuto più giocare in Spagna, in Francia, in Italia? In Montenegro. O in Montenegro. No. My favorite countries have been... First, I loved Italy. Like, when I played at Sastry, I loved it. I loved being there. I loved playing for that team and playing in the Italian League. And so, for me it's always been Italy first and I love Spain. So, I played a lot of years in Spain. So, I've loved the... Obviously the Spanish basketball is high level league. So, that's been fun. But for me, I know when I left Sastry, I always wanted to come back to Italy. And so, this year was possible. So, I'm happy to be here. In primo luogo, sicuramente il mio paese preferito in cui ho giocato è l'Italia. Quindi, i momenti che ho vissuto a Sastry sono stati veramente belli. E al secondo posto di questa speciale classifica metto l'esperienza in Spagna. Quindi, diciamo, dai, che gli spaghetti battono la paella 1-0, no? Sì, I think so, yes. Bene. Allora, noi siamo veramente contenti di avervi dato la possibilità di conoscere meglio questo ragazzo che secondo me ancora non ha avuto la possibilità di interagire come meriterebbe con il pubblico. Magari è un po' riservato, ma avete visto come invece sorride. Quindi, fermatelo per la strada, parlateci con lui, con i suoi bambini, perché il rapporto tra le persone è molto importante per far sentire a proprio agio i giocatori. Fassero scendere dal monopattico. Grazie anche a Giovanni Bruscia che ci ha aiutato nella traduzione, grazie a Luigi Illuminati, a Giovanni Zidda che da casa ci ha portato tantissime domande questa sera, ma non avevamo dubbi, ad Andrea Sabattini che è dall'altra parte dello studio. E quindi ci vediamo giovedì prossimo e Forza VL per domenica. Arrivederci a tutti e buona serata. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi, cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Hai visto quante novità al Conade di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti, per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conade di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conade di Montecchio! Da più di un secolo sul territorio, macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini ceramiche, sempre al vostro servizio.